Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle oggi, festa, solennità della Natività di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, vogliamo ringraziare il Signore per averci amato così tanto da averci donato una madre meravigliosa, una madre che c'è per tutti noi, che ci ama, ci protegge, ci conduce e intercede per noi. Forti e riconoscenti allora per questo infinito dono riconosciamoci altrettanto bisognosi, fragili, peccatori e chiediamo perdono al Signore per ogni nostro peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli Angeli e i Santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo Concedi, oh Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vi verregna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amo. Dal libro del profeta Michea, e tu, Betlemme di Efrat, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e passerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché Egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Gioisco pienamente nel Signore. Gioisco pienamente nel Signore. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficiato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio Suo, perché Egli sia il primo genito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio. Grazie a Dio. Beata sei tu, o Vergine Maria, è degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo, nostro Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua Madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore. Ogni volta che ci ritroviamo a guardare a Maria, nostra madre, nostra salvezza, non possiamo fare a meno di pensare a quel suo sì, a quel sì che ha determinato l'inizio della storia della salvezza, quel progetto di incarnazione mediante il quale Dio ha redento l'umanità. Ma questo dice qualcosa non solo a Maria, ma dice qualcosa anche a noi. Anche noi, guardando a Maria, nostra madre, possiamo portare a compimento il progetto di Dio semplicemente dicendo sì. Quante volte nella nostra vita ci siamo ritrovati a dire a qualcuno sì, ti aiuto, sì, sto venendo, hai bisogno di me, sto arrivando, corro subito da te. Tutte le volte in cui, come Maria, abbiamo incarnato il sì nella nostra vita, tutte le volte in cui, come Maria, abbiamo detto, eccomi, proprio come lei abbiamo aiutato il Signore a manifestare il suo amore, a far sì che il suo amore giungesse a chi è più lontano, a chi è più in difficoltà, a chi è più nel dolore. Perché sì, grazie a Maria e grazie all'amore infinito di Dio, nessuno è escluso dal suo progetto, ma tutti siamo chiamati a portare a compimento una missione ben precisa che passa dal nostro lavoro, dalle nostre relazioni, dalla nostra vita quotidiana. Sì, anche noi come Maria abbiamo un progetto da portare a compimento e questo progetto, se vogliamo comprenderlo, se vogliamo che questo progetto ci guida, la dobbiamo conoscere nel nostro segreto. È bello il fatto che i Vangeli dell'infanzia siano un inno al segreto. Maria, tutto quello che accade lo custodisce nel segreto del suo cuore. Giuseppe, quando pensa di ripudiare Maria, pensa di farlo in segreto e mentre pensa tutto questo, gli appare un angelo. Perché è nel segreto del cuore che possiamo ascoltare la parola di Dio, è nel segreto del cuore che possiamo comprendere il suo progetto. Lasciamoci allora guidare da tutto questo, lasciamoci guidare dalla bellezza del segreto e non sempre del dovere pubblicare e condividere tutto e dalla bellezza di dire il nostro sì a Dio e a chi ci chiede aiuto, conforto, consolazione e soprattutto amore. ci mettiamo in piedi e con orgoglio professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu secolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal figlio e con il Padre e il figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta tra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessioni di colei che le generazioni chiamano beata. Benedici il tuo popolo, Signore. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa diffusa nel mondo, accolga in sé, come la Vergine Maria, la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, Maria, li aiuti, come agli inizi della Chiesa, a formare un cuore solo e un'anima sola, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i consacrati, vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la famiglia umana, incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di beni gli affamati, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per noi qui presenti, lo Spirito ci aiuti a confidare sempre nel compiersi della parola di Dio e a progredire nel cammino della fede, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Dio onnipotente, nella tua misericordia, grandi cose compi ancora per noi. Aiutaci a riconoscere, come Maria, la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e mentre il cielo si bianca già, tu guardi le tue reti vuote. Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà, e sulle riva di ogni cuore le tue reti getterai. Offri la vita tua, come Maria. e sulle riva di ogni cuore le tue reti getterai. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore, il Signore, il Signore, è l'umanità del tuo Figlio onigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe, ti renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della beata semprevergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te ineggio nei cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ammettili all'Italia. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, male, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati, del mondo, api pietà di noi, api pietà di noi, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Dona noi la pace, dona noi la pace. Dona noi la pace, dona noi la pace. Dona noi la pace. La parte più intima dell'anima mia Preghiamo Esulti o Signore la Tua Chiesa che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore. Amén. Prima della benedizione permettetemi di augurare a voi e a chi ci sta seguendo tramite la diretta di poter comprendere e vivere giorno dopo giorno e sempre più l'amore di Maria, Madre nostra. Abbiamo una Madre Celeste a cui guardare sempre. Possa lei guidarci nel nostro cammino verso la santità e l'amore di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia magnifica, magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Tutte le generazioni mi chiameranno Beata. le generazioni mi chiameranno Beata. Grazie. Grazie.